Benvenuti a una nuova puntata di Pillole di buona salute. Oggi parleremo di una pianta sorprendente, la Sansevieria, conosciuta anche come dracena, che non solo decora le nostre case, ma contribuisce anche a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Ma cosa rende questa pianta così speciale? Scopriamolo insieme. Lo sapevate? La Sansevieria è stata classificata dalla NASA come una delle migliori piante per purificare l'aria. Questo perché è capace di rimuovere diversi composti organici volatili, dannosi per la salute, come benzene, formaldeide, tricloroetilene, xilene e toluene. Questi composti si trovano comunemente in prodotti domestici, come vernici, detergenti e mobili, e possono contribuire a problemi respiratori, allergie e altre patologie. La Sansevieria assorbe questi inquinanti attraverso le foglie e li scompone, rendendo l'aria degli ambienti interni più pulita e salubre. Un altro aspetto unico della Sansevieria è il suo metabolismo. A differenza della maggior parte delle piante, che emettono ossigeno solo durante il giorno, la Sansevieria utilizza un processo chiamato fotosintesi acida delle crassulacee, CAM. Questo processo permette alla pianta di aprire i suoi stomati, i pori microscopici sulle foglie, solo di notte, riducendo la perdita d'acqua durante le ore calde del giorno. Ciò le consente di sopravvivere in ambienti aridi e secchi. Di notte, la pianta continua a produrre ossigeno e ad assorbire anidride carbonica, rendendola particolarmente adatta per le camere da letto, dove può migliorare la qualità dell'aria mentre dormiamo. Inserire una Sansevieria nella tua casa può avere molti vantaggi pratici. Non solo migliora l'aria che respiri, ma è anche una pianta estremamente facile da curare. È resistente alla siccità, il che significa che non necessita di annaffiature frequenti ed è anche in grado di adattarsi a diverse condizioni di luce, dai luoghi luminosi agli angoli più ombreggiati. Inoltre, la sua forma slanciata e le sue foglie verdi con striature gialle o argente aggiungono un tocco di eleganza e modernità a qualsiasi ambiente. Se state cercando una pianta che non solo decori la vostra casa, ma che offra anche benefici concreti per la vostra salute, la Sansevieria è la scelta ideale. Grazie per averci seguito in questa puntata di Pillole di Buona Salute. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche per non perdervi i prossimi consigli su come vivere meglio e in salute. Grazie a tutti.